E ciao a tutti ragazzi E ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo massimo video Sono l'application Benvenuti in questo massimo video E da oggi sono impanicato perchè non sono riuscito a fare bene Mai la intro Iniziamo bene Comunque benvenuti E oggi siamo su Aquatic Greens Zone At 1 Ecco qua Il primo tentativo ho dovuto ricominciare perchè i toni erano sbagliati La muschera I suoni sonori Erano più bassi Erano più alti della musica E questo non mi va giù Ho ricominciato un migliore di volte E ora siamo qua E come avete ben intuito dal titolo Si C'è l'acqua Il peggior nemico di Sonic Dopo Eggman E non vedo già più Tails A parte che ci sono questi cosi che Fanno tipo i jumpscare Però quando non si è sott'acqua Qua si vede bene le mura dove possono sbucare Questi sono dei trolloni Dei trolloni assurdi Ah Da questi dannati cosi Che io li chiamo Moskabot Perchè ricordano Ricordano i robot Il robot Quell'osservatore Che Eggman Utilizzava nel cartone Sonic Boom Per spiarli Per spiarli Per spiarli Io li chiamo così per questo Senti è andato attraverso il latto 1 E anche un continuo Ho fatto jackpot Continuiamo Quanto è rilassante Questa canzone Appena in tempo La piattaforma Si stava staccando Muro L'avevo notato Lo sapevo Ogni tanto prendiamo anche un po' di aria Ricca altrimenti Ok 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 Non so se sono più lento Con la registrazione O nell'acqua Almeno qualcuno può smetterla di menarmi Non ho abbastanza anelli però Eggman Basta salire qua sopra E colpirlo Il più massimo Di volte che potete E poi facile Ti ha battuto Un minuto e 44 secondi Nuovo record Bene Adesso andiamo alla prossima zona Ecco qua Casino Night Zone Questa zona mi piace tanto Mi piace così tanto Per due soli motivi Uno è un flipper E a me piacciono tanto i flipper Due la musica La ripeto ogni due secondi Scorpe della velocità Scorpe della velocità Ma quanto durano queste scarpe della velocità Altre scarpe della velocità Ascensore No No Ok sono esaurite le scarpe della velocità Non capisco perchè alcuni le chiamano scarpe da corsa Mentre alcuni le chiamano scarpe della velocità Ascensore Molto intratto ancora prima Special stage! Prendi 40 anelli, qui bisogna restare ferme, poi girare qua, questo special stage è forse uno dei primi più difficili. E' uno dei più difficili forse. Ok abbiamo abbastanza anelli Adesso ne dobbiamo prendere altri Aspetta Erano 40 Questo mi devo preoccupare Adesso 100 anelli Allora No Grazie a tutti. Sì, ne abbiamo abbastanza, ne abbiamo abbastanza. Ok, ok. Il prossimo qual è? 150 anelli tondi tondi. E ancora oggi Alessandro Borghese. Un attimo, devo mettere in pausa. Eccolo. Dai, lo smeraldo è nostro! Quello rosa! Sono un po' taltonico, non riesco a capire se è rosa o viola. No, è rosa, è rosa. La viola è la cosa da un giorno. Un'altra vita pure! Noi, vogliamo entrare in quel flipper! Noi, vogliamo entrare in quel flipper! Noi, vogliamo entrare in quel flipper! si vediamo si si va bene va bene va bene si finalmente fuori anelli invincibilità siamo arrivati alla fine e smettila il faltore ecco qua casino night zona 2 anzi atto 2 allora questi nemici non si possono attaccare davanti neanche con il salto perché ci hanno lo scudo pinball che vi fa rimbalzare e quindi li dovete attaccare da dietro no 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 scarpe della velocità no special stage voglio vedere com'è quest'altro special stage ah verde lo smeraldo verde prenderemo adesso prendi 55 anelli ah maledizione a me mi da l'impressione di una giungla per informazione ok prossimo prendi 110 anelli ok era meglio se giravo intorno eh non ce la faccio eh sì vabbè la metà ce l'abbiamo ok 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 vediamo se Tails ce la fa no non ce l'avrebbe fatta ta no buìa ah Alla prossima.